Salve, sono Caterina, vi saluto da Napoli. Allora, vi presento un'azienda Skyward Community e per chi non mi conosce ancora, sono Katuna Datosvili con le qualifiche dell'investore leader della società Skyward Community. Sono mamma di tre bambini e di qui due sono studenti e abbastanza affermati che è una grande gioia per una mamma immigratta da tre anni e svolgo tutte le attività a distanza dal mio posto di lavoro. Allora, ho esperienza di lavoro in strutture statali, 15 anni di esperienza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico o anche 18 anni di gestione private ed esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite e dei servizi. Anche sono un specialista certificato di lingua italiana. Allora, avendo esperienza di comunicazione mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente nella Community Skyward e che si è sviluppato in Francia, Georgia, Polonia, Spagna, Italia e Israele. Con l'aiuto del mio team in solito sono stati investiti oltre 13 mila dollari e gli investimenti a fine di oggi stanno continuando e tutto è successo grazie alla comunicazione online. Allo stesso tempo, in questa fase del suo sviluppo, l'azienda ha un programma di formazione certificati. Attualmente, attualmente la specialista più richieste è in cui mi ho climaticamente coinvolto. Puoi immaginare che prima del 2014 persone non stavano investendo letteralmente in nulla. C'era solo un'idea e il grande disinteressivo lavoro del creatore di questo progetto. E ora vi presentiamo Skyward Community, opportunità di offerte commerciali. Il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà del signor Anatolio Juleschi, con una storia di sviluppo 40 anni. La proprietà del suo progetto è stimata in 400 miliardi di dollari. Ed è dopo 40 anni di sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda, un progetto che oggi ha le migliori offerte al mercato. Per questo, Anatolio Juleschi ha già 73 anni e è sicuro che ha un 1000% che tutto questo si rialzerà nel corso, nella sua vita. E lui non ha rifiutato anche per realizzare questo progetto, anche quando la sua vita è in pericolo. Però, chi si è la prima volta, ancora, quando avete una... Che cos'è Skyway? Skyway è un trasporto che si muove su rotaia ad alta resistenza. Il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono Skyway di altri modi di trasporto. La struttura della linea Sky fa su supporti che occupano poco spazio sulla terra, non influenzano l'ecosistema. I bacini idrici e foreste rimangono idrati. Il trasporto Skyway è controllato da un'autopilota, ciò riduce il numero di potenziali incidenti, no? E la dinamica del trasporto Sky consente di raggiungere fino a 500 km. E anche la costruzione della struttura della linea Sky richiede meno tempo rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto. Così semplice da fare. Tu potresti chiedermi, ma perché non usiamo un'auto ibrida? Ma io ti dico che quando carichi l'auto ibrida, sì, in pratica devi collecarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo a carbone o altra materia, prima che cria danni alla natura. Noi stiamo partecipando a questo progetto perché vogliamo stare a guardare il destino del nostro pianeta. I costi operativi sono 20-25 volte inferiori rispetto al trasporto su strada già esistente e la produzione di energia al minimo, più che sufficiente e non dipende dalla centrale. E allora, quindi per costruire, quando devi costruire, sì, la costruzione di Skyway consumi 20-25 o meno perché non abbiamo bisogno di raddrizzare il paesaggio per stare acqua e rompere le rocce. Per costruire questa strada sono necessari solo soliti supporti con un binario di fune per viaggiare su SkyTrasport e fornire servizi di consegna con trasporto più veloce. Allora, esistono passagorde rigidi, semirigidi e elastici, ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario. Allora, come sappiamo, quando l'auto accelererà ad alta velocità, deve fare punti con il flusso, l'aria d'aria in arrivo, si chiama resistenza aerodinamica. Il nostro SkyTrasport è oltre più facile da gestire e grazie allo scafo affilato in grado di lungere velocità di 500 kg. Allora, c'è un stabiliamento di produzione di innovazione Sarza e MISC dove lavorano 3000 ingeneri istruttori esperti che gestiscono ogni dettaglio del futuro trasporto con la massima precisione. E qui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 10 anni di garanzia. In pratica, in questo trasporto possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e ottenere interventi chirurgici urgenti in tempo di un rapido trasferimento alla clinica necessaria. Penso che sarà molto utile. Per adesso abbiamo molti tipi di questo trasporto che con la sua capacità possono essere utili. Allora, la loro produttività è un trasporto che può essere 500 km e in un'ora la sua produttività è 500.000 passeggeri al giorno. Il tempo così accelerata è molto utile, penso, per noi. Unibus può raggiungere 150 km e la sua produttività è fino a 50.000 passeggeri al giorno. Unicar ancora 150 km per un'ora e può raggiungere 50.000 Allora, la sua produttività può spostare 50.000 passeggeri al giorno ancora e questo è il merci sapete come usiamo i merci e allora e può spostare 200.000 tonnellate per costruire le case e i servizi. Unibus ancora con la sua produttività può spostare 50.000 passeggeri al giorno è una buona cifra, sì anche tanti modi di trasporto Allora sappiamo che le strade sono gestionali da auto che con la loro emissione possono causare liquidamento di malattie Purtroppo sono anche paesi che dovranno mettere in alto leggi sulla sicurezza perché la mancanza di sicurezza è la causa in molti incendi negli anni 70 esistevano questi problemi di sicurezza e di di sicurezza e nel 1978 un signor antonio di Luneschi scienziato inventore proteggista a navi volanti presento il suo primo articolo scientifico scientifico dopo 5 anni di ricerca sull'atmosfera e l'atmosfera dopo 5 anni è stata molto inquinata e continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie e purtroppo adesso questa situazione esiste la circolazione ha causato decenni problemi strada sovravolata mancanza di sicurezza dispensi di energia colossale eccetera eccetera per i propri interessi i propri obiettivi l'umanità ha danneggiato la natura e i paesaggi si è mappato forreste prosciugando i fumi i bacini idrici distruggendo montagne sciogliere e quindi la natura risponde con disastri naturali così purtroppo molto difficile risolvere tanti problemi però io ho una grande felicità a presentarvi a offrire entrare nella nostra azienda quindi noi abbiamo un progetto ecologico globale economico anche che veramente anche accelererà il tempo della nostra vita anche per i molti punti questi trasporti già erano due anni fa rappresentati e realizzati e già è disponibile a visitarli ancora vi voglio dire che per me la vita ha cambiata a parte migliore dopo che mi sono entrata in questa azienda qui abbiamo molta possibilità di svilupparsi di dare un'altra persona e creare veramente una vita spensierata quindi abbiamo un prodotto reale che non si serve creare le storie per presentare questa azienda e questo prodotto questo trasporto quindi la produzione esiste e che qui crea la nostra vita con i suoi bei colori e ti darà una grande speranza che veramente ci sono esistono persone che pensano noi altri tra salute vita e tra pianeta e allora ogni partner della società Skyward Community è in una posizione redditizia qui è possibile firmare un successore e anche ricevere entrare aggiuntive al programma di partnership di cui parleremo un incontro specializzato per gli interessati il vantaggio e il fascino della nostra azienda a sta nel fatto che una forte riunione di persone con gli obiettivi valori a comuni rappresentanti di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario che è già diventato un processo irreversibile allora che e di qui parlano i progetti già realizzati pianificati e firmati e abbiamo anche molti progetti ecologici non solo di questo trasporto anche creare una città di linea allora questo è un motivo per cui il trasporto di creare il trasporto Skyway che è il trasporto necessario e più richiesto nella storia dell'esistenza umana c'è anche un sito unesk.inginer dove puoi vedere un elenco completo da una serie di permessi e certificati che riflette 40 anni di duro lavoro di signora a quale ha dedicato la maggior parte della vita e del suo lavoro e quindi quando è in azienda dopo registrazione è completare verificazione ti aprirà tua pagina dove puoi trovare maggiori informazioni per tutte le cose che ti interessa però vedrai tutti i diritti tuoi d'accordo con legge europeo e vedrai tutte le offerte anche pacchetti azionari eccetera e se ti interessa puoi registrarsi anche adesso quindi l'azienda offre e offre ti dico adesso quindi il nostro profitto è quando entriamo in quella azienda da sì i rispetti guadagni da programma partner ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro diventi con proprietario di tecnologie e partecipa da un progetto ambientale ampio globale per stare in nostro pianeta blu passi alla storia come fin altro poi crei capital per una vita stensierata hai la possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai e non solo Dubai quindi adesso abbiamo firmato un progetto nella Turchia e aspettiamo i risultati buoni e speriamo che in questo tempo il mondo sarà realizzato questo progetto dappertutto allora hai possibilità testato di formazione di specialità specialità impegnative e altamente retribuite e anche altamente vagate e il più importante che il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni allora personalmente per me è stata una grande gioia rendermi conto di aver comprato 120.000 d'oro per tastoli cosa non avrei potuto fare nella vita reale cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra o in quanti anni potrei risparmiare così tanto è per me che l'azienda sky skyward community è diventata il senso di supporto della mia vita allora è più importante che per te è importante che ci sia un prodotto reale che puoi visitare toccare sentire la sua velocità e comodità per te stesso e non di essere paragonato a nessun'altra azienda questo è un progetto ecologico globale che ci offre molto opportunità interessati ecotecnopark è stato registrato in belarussia e realizzato operativo in belarussia di marina corca negli emirati arabi uniti in particolare città di charia nel centro di innovazione attorno all'università americana dove è già possibile visitarli allora all'università americana degli arabi c'è una linea di prova del nostro trasporto che opera per 15 km intorno all'università questa distanza comprende 21 stazioni l'invitatore può sperimentare il riconforto di questo trasporto e viaggiare con l'auto segnali dell'università del futuro l'invitatore scusate personalmente per me allora per me per molti partner è diventato ancora più credibile che Italia sia tra i due 100 partner e ora ti dico da dove prendiamo i nostri benefici allora il 32% della quota delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione e noi diventare i coproprietari di tecnologie innovative e guarda tutto già è possibile trovarli allora la società è stata registrata in Inglaterra in isole Vergini come società europea nel 2014 pertanto i diritti del single co-partner sono scritti e tutelati dalla normativa europea inoltre l'ordine di anticipazione è invitato del registro pubblico inglese all'indirizzo indicato ecco qui il documento order diciamo di proprietario di partecipazione e dopo la registrazione della società le sue fasi di sviluppo sono state suddivise in 15 fasi ad oggi abbiamo già completato 14 fase ed il suo sviluppo stiamo prossimi alla 15 fase già quest'anno la società Skyward Community è stata introdotta con il nome cambiato dei Uneschi allora si dice così Uneschi String Technology i pacchetti azionari partono da 250 dollari e arrivano fino a 150 mila dollari a seconda dell'interesse e delle azioni si è dato e un rappresentante di qualsiasi classe sociale puoi investire è possibile usufruire in rate internet ad asso zero il pacchetto azionario mai perdere il tempo per ottenere maggiori informazioni e fornisci subito al tuo invitato il link di registrazione o fissa un incontro più specifiche nella direzione che ti interessa abbiamo anche offerte specializzate che esistono sempre nella nostra azienda e possiamo creare veramente fare come per i nostri studenti per creare la loro vita spensierata avere una bella speranza nel suo futuro ed è dopo complotamento della quindicesima fase si sta già spostando sul mercato mondiale e stiamo avvicinando alla maturazione dei dividenti si veramente è possibile posso fruire di rate interne e tasto zero il pacchetto azionario vi dico ancora e non perdere il tempo per ottenere maggiori informazioni ti fornisci subito al tuo dato il link di registrazione o fissa un incontro per tanti risposte più specifiche nella direzione che ti interessa il trasporto esiste davvero si è data a tutte le condizioni climatiche il suo corpo è resistente alla radiazione converte l'energia solare e luce del giorno in elettricità e può letteralmente dirci senza e muoversi ad alta velocità e ciò che è importante per te alla fine c'è ancora la possibilità di unirti a questo progetto ambientale più globale unico e senza precedenti e cambiare la tua vita meglio penso che quindi stai ascoltando il mio messaggio adesso scrivi è un trasporto unico che salverà la vita a milioni di persone centinaia e anche migliaia di ettari di paesaggio miliardi di animali e uccelli che metterà a ciascuno veramente che succede una volta tra mila anni è successo adesso per la nostra fortuna che è nata una persona così incredibilmente bravo signor Renato Iunietzki sono orgogliosa e così orgogliosamente vi dico con alta voce che registrati aiutami solo una persona non si può fare niente però noi la nostra umanità possiamo fare un grande disposizione per salvare il nostro pianeta e l'azienda tiene conto anche dei nostri diritti secondo la legislazione europea ecodiamo tutti i diritti del proprietario questo è un grande conforto per noi il produttività scusate il produttore e creatore il signor Renato Iunietzki che presenta una relazione annuale del lavoro svolto e sempre è di 2022 lui ha pubblicato tutte le informazioni che era fatto all'anno passato la nostra azienda ha una disposizione del denaro se decidi improvvisamente di lasciare l'azienda per caso ti offre di aggiungere più 4% a determinate condizioni restituire i tuoi soldi come maturatario tuttavia se qualcuno dovesse lasciare l'azienda questa richiesta però questo precedente non è stato ancora fino ad ora rilevato e ancora ti dico che funziona il nostro trasporto tramite pannelli solari anche il suo corpo può convertire il solare in elettricità e lavorando praticamente senza sosta i termini di trasporto passeggeri può trasportare il numero molto maggiore in 24 ore rispetto ad altri trasporti esistenti i termini di inquinamento siamo a zero sostanze nocive quindi nessun denaro non esistono i termini incidenti è più sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli esistenti ricordiamo che ogni tipo di veicoli che necessitano di consumo trasporto maritimo per est aereo però tutti portano danni alla nostra natura e vi voglio dire che ancora il nostro profitto quando entriamo nella nostra azienda che non si cambia mai il nostro profitto è iratei dividenti guadagni dal programma partner ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro diventi comproprietario di tecnologie partecipa a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu la storia come fin l'altro fu e crei per una vita stensierata hai la possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai e non solo Dubai è stato di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionali al numero delle tue azioni e spero che tutto che ti ho detto sia utile per te e che ti aiuterà per cambiare la parte migliore allora questa era società UNESCO String Technology e con le sue offerte e opportunità e sono stato attratto dalla qualifica di investore leader della questa società Fatuna da Toshvili e Caterina come si chiama Napoli e grazie per l'attenzione ciao ciao ciao